L'Emilia Romagna è una terra generosa. Fertili pianure, paesaggi incantevoli, città ricche di storia e d'arte. Nel Medioevo fiori nel commercio e nella cultura. Le meravigliose città custodiscono tesori d'arte unici al mondo. Bologna la Dotta, sede dell'università più antica del mondo occidentale. Sul colle della Guardia domina la città il santuario della Madonna di San Luca, che si può raggiungere percorrendo un meraviglioso portico. Nel centro storico, la Basilica di San Petronio del 1390. La splendida fontana dedicata a Nettuno, impreziosita dalle statue del Giambologna. Il complesso monumentale di Santo Stefano del V secolo, detto anche delle Sette Chiese. Le due altissime torri, degli Asinelli e Garisenda, simbolo di Bologna. La raffinata tradizione culturale bolognese trova espressione anche nella stagione lirica del Teatro Comunale, edificato nel 1763. Ravenna, custode dei meravigliosi mosaici del Mausoleo di Galla Placidia, della Basilica di San Vitale e della Chiesa di Santa Pollinare. Ferrara, sede della sfarzosa corte degli Stensi. Il loro imponente castello domina il centro cittadino. Parma, il cui Duomo Romanico è mirabile capolavoro dell'architettura. Il Battistero Ottagonale, rivestito di marmorosa. L'elegante raffinatezza del Teatro Regio, uno dei più celebri templi della Lirica. Piacenza, armoniosa e rilassante, conserva nel suo centro storico edifici medievali e rinascimentali di notevole interesse, come ad esempio l'antica sede del comune, il cosiddetto Palazzo Gotico, del 1280. Piazza Grande e il Duomo di Modena, opera d'epoca romanica tra le più importanti d'Europa, e la Torre Ghirlandina, che prende il nome dal doppio giro di ringhiere che la incoronano come fossero ghirlande. L'Emilia-Romagna è una terra ricca di sapori e profumi. Banto della cucina regionale sono piatti gustosi e generosi. Lasagne, tagliatelle, fiore all'occhiello della produzione gastronomica, il parmigiano, il prosciutto, il salame, il culatello. Terra di eccellenza anche per l'artigianato artistico e per l'industria. Faenza, celebre per le meravigliose ceramiche. Maranello, sede della prestigiosa casa automobilistica di Enzo Ferrari. Tradizionali feste si svolgono in tutta la regione, come ad esempio la festa di Garibaldi a Cesenatico e il suggestivo Palio con corteo storico a Faenza. L'Emilia-Romagna, con le sue meravigliose città e le celebri spiagge come ad esempio Rimini e Recione è il luogo ideale per ricaricarsi, rilassarsi e divertirsi in un mare di ospitalità e gioia di vivere.